Questo Ma avete preso il server russo? No, tedesco Sarà tutto collegato Che il server è tedesco Che Alexander è razzista Sarà tutto collegato O è pura casualità Lo scopriremo nelle prossime puntate Yeah No, ma questo è solo della 45 CP Questo è il mezzo Sono Oh, l'ho il mezzo, davanti a te sta No, non ci sono le munizioni Ok, l'ho preso Ho preso il giubbotto per Giulio? Beh Eh, piglialo Dove siete? Mi dite dove siete che vi raggiungo A me mi sembrava le munizioni Dove c'è la strada? Dove c'è il cacciatore? Aspettate, c'è un rompicoglioni addosso Ah, comunque Montress Se vuoi ti consiglio di metterti lo zaino da caccia Ah, ma devo trovarlo Eh, vieni, vieni Vieni da me Ecco, vi vedo, vi vedo Ditemi solo dove stanno le cose da prendere L'elmetto e le munizioni Le munizioni te le lascio qua a terra Sono qua Grazie L'elmetto invece sta qui dentro L'elmetto sta qua dentro Dove sei? Qui, 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 qui Guarda, guarda Ok È un po' bianco però L'elmetto da pilota tipo Ah, non mi piace Eh, ma non ti devi piacere È quello che ti protegge E protegge bene E' quello che ti rompere Ecco là lo zaino Anche una borraccia che ora me la devo Ma è più grande il mio Eh, ma però quello lì è più minitizzato E non ti vedo Ma tanto il mio Cioè, vabbè Comunque Ah, ma per essere più Minitizzato l'ambiente E poi sei un po' meno vivo Oh no Cristo No, no, no Vedetemi la gianta Dentro, sub Sì Le munizioni della pistola Mi dovresti dare, no? Hai detto che hai trovato Là dentro Dov'è che l'hai vista? Qua dentro C'è lo scatolone rosso Dell'FNX Lo cerco, ma Ecco Ma va, ma queste non sono della pistola Dell'FNX A te non c'hai l'FNX Che cazzo è l'FNX? La pistola Ah, sì, allora sì E sono quelle? Sì E il caricatore come funziona? Una volta scarico Dove va a finire il caricatore? Nell'inventario Poi tu ci trascini i proiettivi dentro E te lo ricarica Ok, andiamo da Giulio Io ho lo zaino per lui A voi avete preso qualcosa per Giulio? Prendete qui dentro C'è qualcosa che vi può interessare Tipo cibo Io prendo la borraccia per Giulio Non ce l'ha Ok Ho lasciato i colpi delle cartugge Tanto è un misero Ok, vamos E Giulio dove stai? No Io ho messo il cazzo Io appena attaccato Sì che comunque Eh, lo dobbiamo uccidere Mi serve per forza Eh, infatti Preghiamaci la carne Dov'è? Guarda, c'è anche un altro C'è un cervo là più avanti Io ti... Alexander, sai perché ti odio? Perché tu fai... È lì, è lì Guardate No, il cazzo Il cazzo l'ho visto Il cazzo l'ho visto Il cazzo l'ho visto Ah, ecco Mi sono girato Dove sto andando io? Oddio, non mi dite che quello ha 10 km Ah, no, eccolo Oddio, guarda quello là in fondo Ecco quello là Io mi occupo del maiale qua Del suino Ho preso sparare? Eh, dovremmo Perché se no non lo prendo Chi lo spara? Sì, io sparo il suino No, fermo Non sparare Io non c'è Minchia sparate però Eh, che balla Più che altro non so se con il Con la Calibro 45 L'ammaccio in un colpo Mi ha ballato, hai? E gli spasmi E' finito Avete sparato? Sì Io non ho sentito niente Io sto andando al cervo, eh Dal cervo sto andando io Che cosa hai per squagliare? L'accetta usi? Il coltello Io ho il macete Ma il macete o il coltello? Il coltello La cucina Ah Se mai puoi usare anche il macete Sparare il cervo 1 Lo prendo? Lo sparo io Lo sparo io Che già tipo mi sto stabilizzando il mirino Se volete poi sparatelo voi A me non è che me frega molto Spera, aspera Da qua lo prendo secondo me Presso la carne Non lo so Però non lo spaventare Ti prego Perché ce l'ho 300 io Eh non è un po' Sì 200 100 anche 100 Minchia da questa distanza Morto Avete sentito lo sparo? No Strano E' bugato Eh dovete raccogliare voi Io ho il massimo Grazie Eh tu squaglialo Io lo raccolgo Fammi lo squagliare Fammi lo squagliare Come si fa? Ti serve il coltello? Sennò non vorrei squagliare voi Ho il macete Dove Postate Quale cazzo ci fa? Ho bucci Ma Da mai sta giur Con tutti i bug che c'ha Minchia Tipo Ammazzoni voi Asquagliate Prendete la carne Tutta qui dintorno Non ne vedo neanche una Ah eccolo Crede Aspetta aspetta Questa che città è? Morto se non hai capito Si fa così Vero la lancio Tutti con la luce Fa così Guarda tutti con la luce Sam Guarda Prendilo Ale No Io ce l'ho già in mano Ale Ale La butta Ho già butto da terra Non frego un cazzo Che palle sta piovendo di nuovo Ah non sta piovendo Eh ho sentito il temporale Ma chi è che c'è da la mano? Ragazzi Armi Infatti Armi Armi in mano eh Che è il nome di questa città qui? Eh lo stesso di primo Guarda lì ce n'è un'altra eh Continuiamo di là Vedi qua c'è un È questa eh Guardate leggete Eh però è questa qui non si vede Non si trova il nome Ah aspetta forse è questa Quella prossima ce l'ha Ah no Sì è la prossima Eh sì questa è qui una città grande Caputana non ho mai vista Tra una di qui No aspetta non dirmi che siamo dove penso io E c'è? No proprio nel nord della mappa più estremo Wow Siamo anni luce dalle coste allora Siamo a Petrovka Vediamo È enorme È anche una stazione dei pompieri Sì è enorme È una città nuova Uh ma c'è un ospedale Qualcosa del genere C'è tipo una struttura enorme Sulla destra ragazzi Ore tre Sì ore tre no Ore sei tipo Cazzo sto a dire ore sei Lol Siamo nella città Ore tre ore tre Siamo Nella città della mamma 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 Aspettate la cerco sulla mappa Non c'è non c'è Che bello il mio Il mio mirino rotto Bellissimo Ma senti Fammi vedere quel mirino Sì ma è rotto Vedi Bene è che questa Hanno giunto nella mappa E quello telescopio Ottiva a te No non mi va Long range No magari Va al mio Va all'Sk del long range Eh ragazzi No Sì va un altro mirino Sicuro che non va Cioè noi abbiamo beccato Le città quelle nuove Senza neanche indicate La mappa Perfetto Eh bene buono Io più che altro Volevo andare in quella struttura enorme Quello è un palazzo Quello è un ospedale Mi sa Aspettate un attimo Sì Non c'è manco quello Comincia il lag In città Comincia il lag Sì ma qui Parti a 3000 Perché è una città enorme Quindi siete vibranti Tipo beccare i zombie qua Non è bello Perché a destra c'è la scuola Puoi trovare di solito Armi Qui c'è un ospedale Venite con me Eh Chi è quello davanti Io Ok Madonna ci va di merda Sì lagga tantissimo Lagga Sì ti piacerebbe No 30 se li faccio Sicuramente Fidati di meno Io una ventina Guarda se lagghi Come minimo è sotto i 30 Sto facendo 25 e 30 Sto facendo Ho sentito uno zombie Sì l'ha ucciso Ale Programma aperto No Cazzo non correte C'è uno zombie che ci sta venendo da dietro Quello di là Merda Dietro raga Dietro Lo uccido io? Sì sì E la smetti di andare Come un handicappato Sto facendo il giro giro tondo Non so ma non Dico lo zombie Mi riccazza seppa Sì cos'è questo Marte È l'ospedale L'ospedale Iguale a quello di Zimono Però li dovevi spaccare la vetrina E ci mette gli anni Oh mamma è lagga Ma che dobbiamo fare all'ospedale? Cercaremmo qualcosa Preservativi Cioè vedi che in sto gioco se non fai ste cose qui ti annoi e basta No per carità sì Però dico L'ospedale Andiamo a cercare una caserma qualcosa Tipo stazioni di pulizia Non ti ha messo bene ad armi Le bande danneggiate va bene lo stesso vero? Vieni Ma sì ma anche per usarle come campfire vanno bene Bene che qui si serve sul terrazzo Peccato di frame rate di abono Tu vado a qualcosa? Qua sopra non c'è mai niente Su quella gru gialla io non ci salirò mai Un mio amico c'era salito E per miracolo è scesso intatto Dove siete? Siete entrati dentro? Siete entrati dentro l'ospedale? Sì da me Ok Via via Dove sei salito? Qui qui Dove vorrei andare Sto qua In me Cos'è collect your sample? Non lo fai? No no non lo faccio Sì prendo un po' di sangue tipo Con la siringa Se si tratta della siringa non muore Però se si tratta della busta Cosa che non può fare da solo perché ci deve essere un amico Uh c'è la casa del pianoforte Ma qua c'è un mirino Chi ha lasciato il mirino? Io Con la porta aperta Occhio ragazzi Tentate gli occhi aperti Perché qualcuno forse è entrato nella casa del pianoforte Che cazzo dici? La porta aperta Quella là del culo Eh tu l'hai detto che Con la pace Adesso le porte possono essere anche aperte Sì ma quella lì di solito non è sempre Scusa dove sta sta Dove è la casa col pianoforte? Con la bianca Eh ma esci E dove siete? In là della strada Eccoci Dietro di voi Qui? Sì Lo sapete che se andiamo indietro c'era un palazzo enorme? Aiaiai No Questo non sarebbe male come cova È una grotta Non l'ho mai vista una grotta Manco io Se Digimon mi sai che manco stava Oddio però se guardate la roccia sopra Sembra che si muove Sì perché Mentre correte Ah ok Ma guarda qua va ancora Sì è una grotta questa Era Eh sì Ti riscavo ecco perché era tutta recintata Eh ma non è male questa qui Come posto dove nascondersi Sì per nascondersi lol Siamo lontani anni luce dalla civiltà E grazie al cazzo Cioè non c'è bisogno di nascondersi È bello la roccia Bellissimo È una bella esperienza Vabbè Ecco bravo Eh qua potremmo cucinare la carne Eh Ecco mi cavernico Aspetta Se dovete cucinare la carne non mangio Eh cuciniamocela Questa la sta sputa dentro la ciotola Lui sputa da dentro Lui sputa da dentro Eh Perché c'è la cetta da palegname Tagliare il calvero Dovrei uscire Beh vedi alberi qua ditta Vai Qua qua stanno gli alberi Qua sopra Venite Li ho visti qua 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 E che c'ha delle Bende Delle racks Io Io State i racks Forse è meglio Chi taglia? Che bello qua sopra però Guardate È quello che c'è la città palegname Giulio Il luogo segreto Minchia qua è stupendo sto luogo Facciamolo qua il barbecue Abbatti un cespetto Che spuglio Che non c'è spuglietto Questo qua Questo qua Guarda Questo 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 E c'è spuglietto Ecco Ora Abbatti un albero Io intanto raccolgo Questo 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 Non c'è niente Giulio palegnano Preso te Preso No no Non c'è niente Strano Mi sei abbattuto Il cespetto Sbagliato Aspetta Butto giù questo Si attenti all'albero Però ragazzi Attenti all'albero Perché Venite qua Ecco che è questa Ecco Sub Prendi i rugs E fai il campo fallo Anche te È morto Eccolo È caduto Lol Cosa devo fare Adesso Stavo per morire Tipo il mio personaggio È volato a via Come superman Oh Cosa devo fare Ed è Pilla il tronco E dove Stare Ah eccolo Eccolo Aspetta Niente Dov'è Eccolo qua Hai registrato a te Staparte Sì Ma non ho visto L'albero che cadeva Però lo vedo Adesso Guarda che Guardi questo posto Cavolo Ah minchia Vuoi Di a Robaci Dobbiamo ricordare Sto posto Ok Sì sì Mi basta Oh non è male Non vedo niente Ale Una cosa migliore Che ho trovato Su dei zii Venmo più avanti Venmo più avanti Let's do Niente Ale Ma lei Vabbè è stato No dimmi cosa Devo fare Ma dicevo La morte Che aveva fatto I legneri Ma fate sto Cazzo di fuoco Non me lo fa mettere Come non te lo fa mettere Buttalo qua Sulla pietra Buttalo qua Sulla pietra Lo faccio io Eccole Eccole Ma quelli sono i rametti Ce li avevo pure io Questi Sì sì Devi farlo te Prendete i racks O le bende La trascinate sopra E fate il Sì ok Non fate il primo Fate le seconde Minchia ma io le bende Quelle da 100% Non avete dei stracci voi Sì io li ho Eh dammi stracci Va non mi va di consumare Le bende quelle buone Dammi le niti Sì tieni Dai lo sto posto Veramente C'è la cosa migliore Che ho trovato In sto gioco Eh hai visto Vai l'hai preso Preso Ok perfetto Sì sì ho visto Ho visto Avvicinarsi Ti devi avvicinare E mettere i tronchi dentro Chi è? Orpes Chi è? Orpes Hello E ora? E qua sopra E adesso i fiammiferi Mi sa ce li ho io Ce li ho io Ok Allontanati Allontanati Tanti io ho un colpo alla volta Oh Beh Oh 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 All'interno Me ne serve assolutamente No 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 Appena è pronta Ne devo prendere assolutamente Uno Mettete un altro tronco dentro Eh te Tegliatene un altro Ah Aspetta qua Ce n'è un altro Ora questa scena è da filmare Ci mettiamo in F3 Tutti seduti intorno al Campfire Guarda che figo Ora che figo guarda Posso anche sparare Nel dito medio Ah si? Ah che bello C'è un tab e la puoi sparare Veramente? Vediamo Se sei seduto premi il tasto spazio Miri e poi sparare Fai tutto E' vero I tre sopravvissuti Io c'ho un dildo in mano Ho proprio Ho visto Ho visto Come cazzo Come cazzo si chiama Aleksander Tipo Drink content Che cos'è drink content? Sai quando su Per esempio Fall out Si rompe una ragdola E inizia ad allungarsi Ah si? Così l'ho visto Tutto allungato Dai cazzo di carne Figa Ma che cos'è sto Questo giallo Che ho raccolto Guardate L'ho buttato Luce chimica La puoi lanciare E fa luce No Stupido Non metti il culo Vedi che veramente Prendi danni No no muore Idiota Vabbè Si potresti anche Bruciarti lo zaino Sinceramente No no muore Proprio stecco Ma quindi nessuno Sa dove siamo Su una montagna Non ne ho idea Io stavo seguendo Ma ci puoi mangiare La carne? Qualcosa? No No devi aspettare Che sia cotta Io di realtà Sono pieno di cibo Pieno Ne serve uno Io solo Sì anche io Me ne prendo una o due Per scorte Però A meno due Me ne serve Ah beh io ne ho altre due Da cuocere Ma voi non ne avete altre da Sì Sì io ne ho un altro Da cuocere Ha buttato a essere tutte dentro Eh non c'è spazio Appena finisce qui Eh se avessimo il piccone Qualcuno spaccava delle pietre E metteva dentro al fuoco E alimentava di più la fiamma Comunque 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 Rimaniamo qua per ora Magari ci disconnettiamo anche qua Sì Ok Volete salutare Salutate YouTube va Salutate Così chiudo il video Ciao YouTube Ciao YouTube Ogni tanto Ciao 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 Sous-titrage ST' 501